Il tennis mondiale vive la lunga vigilia dell'edizione numero 141 del torneo dei tornei Wimbledon che scatterà lunedì prossimo con Roger Federer appena rientrato all'assalto di quella che sarebbe la sua ottava vittoria sul green più importante del circuito ATP. Pronto a sfidare il campione uscente Andy Murray ed un raffanadal tornato in condizioni smaglianti è deciso a dare l'assalto allo slam londinese. Il tennis foggiano invece dopo aver festeggiato il ritorno in serie B femminile del tennis club Foggia con l'ancora fresca vittoria delle ragazze a Gorizia si presta a vivere sempre sui campi in terra rossa del tennis club di Via del Mare le Final Four nazionali over 70, ultra settantenni avete capito bene. Ovviamente si tratta di settantenni molto ben allenati e con trascorsi tennistici di un certo livello. Il titolo se lo giocheranno il tennis club Sport Garden, la Canottieri Roma, il tennis pesero e il tennis club Binacorosso Carcare. Si comincia domani per una tre giorni tutto ad eseguire oggi invece la conferenza stampa di presentazione dell'evento con la presenza del presidente del comitato regionale FIT Mantegazza.